Buonasera a tutti e benvenuti. Si parla di virus, malware, phishing, cryptlocker, bug, link, fake news, tutti i termini che conosco a malapena o in maniera assolutamente superficiale, che magari tanti che mi ascoltano conoscono molto meglio di me, però sono un po' tutti vizi, le crepe, le falle del sistema informatico, della rete, dei social e di quanto altro. Oltre a quei dementi, perché così possiamo chiamarli senza utilizzare parole peggiori stante l'orario, dementi che ultimamente, mi è capitato anche in studio e capita anche a colleghi o ad amici, sullo screen ti dicono guarda che ti ho bloccato tutto, guarda che mi devi pagare 500 Euro in questo modo, in quest'altro modo, eccetera, eccetera, per sbloccarti il PC. Ma li beccheremo in qualche modo, qualcuno li troverà e poi dopo faremo i conti. Al di là di questo, nessuno paghi questo ricatto informatico. Detto ciò, Whatsapp, lo usiamo tutti sul telefonino per chattare, quindi comunicare, fotografie, messaggi, quello che volete voi. Dopo un vecchio virus, vecchio problema che si chiamava Momo, se non sbaglio, era una bambolina giapponese che compariva con il volto terrificante, invitandoci a fare una sorta di catena di Sant'Antonio, di questo messaggio, minacciando se no tutta una serie di mali orribili. Ma, ripeto, bambolina giapponese che comunque aveva avuto il suo perché, proprio in virtù del fatto che tanti spaventati e un po' così scaramantici sul discorso delle catene, varie, avevano accettato di diffondere questa catena e quindi inevitabilmente questo virus. Ora, ennesima fregatura è Olivia. Olivia, nome di donna. Pare che questa Olivia prenda di mira soprattutto con gli adolescenti e si presenterebbe con un numero sconosciuto e quindi come Olivia, quindi nome proprio, amica che ha cambiato recapito o amica dell'amico. In buona sostanza verrebbe evidenziato una sorta di legame diretto con il contatto reale, tramite amicizie comunque del giro e questa sarebbe un pochino la miglioria adottata in questa truffa. E a questo punto Olivia si offrirebbe di inviare anche una fotografia all'interlocutore proprio per dimostrare insomma di essere viva, di essere una persona dall'altro capo del mondo, perché chissà poi da dove arrivi tutto questo, girando il tutto con un link, quindi con un collegamento che in realtà invece porterebbe a tutta un'altra serie di collegamenti sino alla classica pagina web con le immagini pornografiche e anche qui insomma tutta la problematica relativa poi alla truffa e al convincimento, insomma al ricatto, il pagamento e tutto il resto. Olivia viene lanciata, l'avviso di Olivia arriva in Italia dall'Inghilterra, quindi pare che siano partiti da lì, polizia di Helton Brock in Inghilterra avrebbe segnalato già questo fatto e diramato tutta una serie di azioni utili nel caso si venisse colpiti da messaggi spam anche di terze persone non autorizzate, quindi viene indicata e viene consigliata la prudenza, l'attenzione nell'utilizzare il dispositivo eccetera eccetera. Che posso dire? È una vita, prima i messaggi strani e le questioni strane arrivavano via posta, poi via telefonica, adesso attraverso le chat e i sistemi, i modi sono comunque sempre quelli anche più o meno tradizionali. Passiamo e siamo passati tutti dall'avviso sul computer, in questo caso sul telefono della nostra carta di credito bloccata, della possibilità di riaccedervi, del fatto di ridare alcuni dati e quindi indicando le proprie credenziali e da lì virus o comunque soldi che sparivano dal conto. Siamo alle solite, è passata Momo, benvenuta Olivia, benvenuta nel senso che anche lì se vi becco o se vi beccano ci vorrebbe la punizione ideale, ma il problema è che magari andiamo a fare il giro del mondo con tutta una serie di canali che passano da Sudafrica, dall'Alaska piuttosto che alla Siberia per arrivare poi a rompere le scatole anche a noi italiani. Grazie.